Stiamo parlando di cambiamento climatico, emissione di carbonio, riscaldamento climatico e tanti altri aspetti. Ma non stiamo parlando di suolo. Il suolo è l'habitat su cui prosperano miliardi di vite. Quando non c'è più ricchezza nel suolo, hai abbandonato il pianeta sotto molti aspetti. Ogni scienziato responsabile nel mondo e le agenzie dell'ONU stanno affermando chiaramente che ci restano solo tra gli 80 e i 100 raccolti. Questo significa approssimativamente 45-50 anni di suolo agricolo rimasti sul pianeta. Entro il 2045 produrremo circa il 40% in meno di cibo di quello che stiamo producendo adesso. E la nostra popolazione sarà di 9,3 miliardi di persone. Le carenze alimentari che potrebbero verificarsi nei prossimi 25 anni. Le conseguenze di ciò sono inimmaginabili. Le guerre civili scoppieranno in tutto il mondo quando ci sarà scarsità di cibo. Quello che stiamo affrontando adesso è l'estinzione del suolo. Perché il suolo si sta estinguendo? Dove se ne sta andando? Cosa sta succedendo al nostro suolo? Dobbiamo capire che se aggiungiamo contenuto organico alla sabbia, la sabbia diventerà suolo. Se rimuoviamo tutto il contenuto organico dal suolo, il suolo diventerà sabbia. Nel normale suolo agricolo, il contenuto organico minimo dovrebbe essere tra il 3 e il 6%, il minimo è 3%, almeno questo minimo per mantenere il suolo vivo. Mantenere il suolo come suolo vivente è un dovere. Nel suolo agricolo di tutto il mondo, il depauperamento è molto grave. Nella maggior parte dei paesi, più del 50% del soprassuolo è già scomparso negli ultimi cento anni. Il livello di nutrienti è cronolato significativamente. La quantità di micronutrienti che ottieni dal tuo cibo, rispetto all'inizio del ventesimo secolo, quello che ottieni dallo stesso cibo è sceso del 90%. Se mangiavi un'arancia nel 1920, quello che ne ricavavi adesso, nel 2020, se vuoi ricavarne lo stesso, devi mangiarne otto di arancia. Questo è quello che abbiamo fatto al nostro cibo. Il suolo è il più grande ecosistema del pianeta e così poche persone ne sanno qualcosa. Un cucchiaino di suolo sano contiene probabilmente più microbi di quante persone ci siano sulla Terra. La vita microbica nei primi 30-40 centimetri di soprassuolo sono la base della nostra esistenza. È questa magia sotto i nostri piedi che ha prodotto la vita massiana. Questi primi 30-40 centimetri di suolo sono la base della vita. Nel 87% della vita sono le stagioni. Incluso due. Dobbiamo prestare a riconoscere quello che chiamiamo il nostro suolo. È un organismo. Terreni aperti, sventrati dalla natura, aperti alla luce solare, sono la base della distruzione della vita vita. Quindi l'attenzione dovrebbe essere rivolta all'agricoltura. L'attenzione dovrebbe essere su come portare il terreno il più possibile all'uomo. E a un qualsiasi tipo di luogo. Tra l'altro, c'è spugno. Conscious Planet sta lanciando il movimento Salva il Suolo per apportare un cambiamento nelle politiche per rigenerare il suolo. Come parte di tutto questo, ho 65 anni e sto percorrendo un viaggio in solitaria in moto di 30.000 chilometri. 30.000 chilometri attraverso 24 nazioni per raccogliere il sostegno dei cittadini. Per assicurare che gli investimenti a lungo termine del governo saranno apprezzati. Pertanto è estremamente importante che la rigenerazione del suolo sia sancita nelle politiche di ogni governo del pianeta. Dobbiamo cambiare la narrazione sul pianeta. Che il suolo è una ricchezza. Un'eredità che abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni. E dobbiamo tramandarlo come suolo vivente alle future generazioni. Siamo in un momento cruciale. Se facciamo le cose giuste ora, nei prossimi 15-25 anni, possiamo ribaltare in modo significativo questa situazione e rigenerare il suolo. Ma se permettiamo che questo prosegua in questo modo per altri 30-40 anni, se ci proviamo tra 40 anni, allora potrebbero volerci dai 150 ai 200 anni. Perché sarebbe avvenuta una tale perdita di biodiversità. Dal 21 marzo per 100 giorni, il mondo intero, ogni essere umano sul pianeta dovrebbe parlare del suolo. Dobbiamo sentire la parola suolo, salvare il suolo ovunque. Per assicurarci che la narrazione sul pianeta cambi verso l'aspetto più vitale della nostra esistenza, il suolo. Ciascuno di voi dovrebbe raggiungere quante più persone possibile per fare in modo che questo accada. Molti influencer e leader mondiali stanno già partecipando. Unisciti a noi e facciamolo cadere.